Ora non sembra esagerato parlare di crisi, anche se in questo caso a mancare è stato soprattutto il risultato. Altro scivolone per la Virtus Ragusa che al palafantozzi di Capodorlando viene battuta dall'Orlandina Lab. Tutto si è deciso negli ultimi due minuti di partita. Un match che è stato sempre giocato ad alti ritmi dalle due squadre e che alla fine ha premiato i padroni di casa. L'Orlandina Lab così si avvicina in classifica a due punti dalla Virtus Ragusa che rimane comunque capolista. Il ritmo sin dall'inizio è stato molto veloce. Primo quarto caratterizzato dai punti fuori aria di Neri e Carnazza che piazza un Tressi in sequenza. I padroni di casa mostrano subito i muscoli, ma i ragusani non sono da meno, chiudendosi in difesa e non concedendo spazi sotto canestro. Grande equilibrio in campo e primo quarto in parità 14-14. Nella seconda frazione di gioco la Virtus prova ad accelerare con Andrea Sorrentino che sotto canestro riesce a finalizzare giocate ben costruite dall'intera squadra. Ma i padroni di casa non stanno a guardare e grazie a Gallipò e a Murabito riescono a stare dietro ai ragusani. A ritorno dal riposo lungo la storia non cambia. Grande dinamismo di entrambe le squadre e azioni offensive efficaci. Peloritane ha più otto, ma Andrea Sorrentino, Carnazzi e Di Natale rispondono con canestri che tengono i ragusani sempre un passo avanti sul tabellone grazie anche alla difesa che risulta essere più compatta e meno penetrabile. Nell'ultimo quarto nervosismo in campo. Grazie a Ochielevic e una tripla di Murabito l'Orlandina Lab si porta a più 6 quando mancano 5 minuti alla sirena finale. Ragusa non ci sta a soccombere e grazie a Sorrentino si ritorna in parità a due minuti dalla fine, 66-66. La tensione cresce e la Virtus non riesce più a gestire la palla. Fazio mette dentro due canestri che portano avanti i padroni di casa e poi Gallipò e Labudovic dalla lunetta completano l'opera per una vittoria che si è decisa proprio negli ultimi secondi del match.